secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie alexa accendi discoteca ok 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 e più vuoi sare mi dissocio ma puttani mamma da studio che merda mannaggia e su cristo malatena da coro si fa malo coro vuoi dire qualcosa vuoi dire qualcosa a qualcuno senza fare nomi ti amo ragazzi se non clippate questa c'è ha fatto una si sta liberando si sta liberando ma 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 e c'era questo mio amico gis hyanto che chiara è un po più avanti con l'età come me magari non conoscete meglio e i ragazzini vi posso garantire che lo conoscono tutti dove sta sta mangiando non c'è o sta due due cose fa o mancia o sta online quindi voglio dire ho statta l'epo quindi non lo vedo mangiare vuol dire che sta al telefono, lo ringrazia perché lo voglio bene, è come un figlio per me o mai, visto l'età poca età che ha, ma è famoso quindi è bravo è un ragazzo in gamba e quindi lo voglio ringraziare praticamente ma c'è marrone ma come fa, porco Dio stamattina, ma come fa una canzone più allegra non sta scendendo la guada ma ti fa tromper pure la tanzina del caffè porco Dio ma dove c'è va questa canzone che ha scendendo la guada non ti fa una cosa più allegra stamattina ma che c'è il pacino eh, manca a fare così porco Dio ma can... uno 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 stai fuori cimane chissà, che stai facendo? sentiamo ok ma che stai facendo? ma chi stai facendo? alexa accendi schiuma benjamimiii Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ho mutato un attimo il gioco perché sennò qua... E niente... No, no... Eh, scusami. Scusami. Vabbè, voglio, io provo, voglio, perché non ce lo sono. Capuzzi. Ma che stai perso? Vabbè, mi sei sceco qua giù. Aspetta. Non ci schianto. Grazie di buio a tutti. Fieto Scuro, iniziamo. Vai, Fieto Scuro, vai! Vai, Fieto Scuro, vai! Oh, Dio, sono Piero Scuro. Ma non c'è più che conte, dai! Che conte! Oddio, sono io, segno a queste cose. Devolito! Devolito! La saporetta! Vado a casa, mio padre, mi butto la saporetta a te. Ma credo, se è posto giusto. Eeeeee! Lavati, Antonio! NOOOOO! Nasire? Nasire? Poi Nasire, non succedeva niente Nasire. Ma sentitevi che non è buono stasera? Invece no, oi, GTA. Basta che mettiamo GTA. C'è stupanciele di merda. C'è stupanciele di merda. Funzione niente. Assistente vocale finestra di dialogo, ok, pulsante, alte o, annuncio. Modifiche della tastiera dell'assistente vocale. Abbiamo aggiornato il layout della tastiera dell'assistente vocale in modo che sia più simile all'esperienza che potresti aver avuto con altri lettori di schermo. Se vuoi che l'assistente vocale ti dica quali comandi sono associati ai tasti che stai premendo, puoi attivare l'apprendimento dell'input premendo blocco maiuscole più uno. Per disattivarlo, premi blocco maiuscole più uno. No, non sono bastanti. Per disattivare l'apprendimento dell'assistente vocale. Per disattivare l'apprendimento dell'assistente vocale.